Sindaco Graziana Di Florio torna a Cuperlo alla Sacra del Carciofo dopo le restrizioni degli ultimi due anni. Siamo felicissimi di questo ritorno del Festival del Carciofo. Innanzitutto mi preme ringraziare voi, ordine della stampa che siete qui, che avete accolto il nostro invito alla presentazione di questo Festival del Carciofo che torna in questa formula dopo sette anni ma che comunque Cuperlo festeggia da più di 50 anni. Davvero siamo orgogliosi anche con tutte le paure e timori che abbiamo avuto negli ultimi due anni che ovviamente non sono qui a rappresentarvi ma che tutti conosciamo. Quali sono le novità di quest'anno? La novità di quest'anno è la sobrietà. Abbiamo deciso di ricominciare con Garbo, con sobrietà proprio per il rispetto di quello che abbiamo avuto negli ultimi due anni ma la novità è proprio la ripartenza, questa ripartenza che diciamo un po' di tutti è una ripartenza ad una nuova vita, è una festa di primavera, è la festa di noi cupellesi che crediamo nel carciofo, che sentiamo il carciofo come prodotto identitario dove ognuno di noi ci si identifica. Siamo alle porte dell'estate, si parte con questa iniziativa, ci saranno altre per questa estate 2022? Guardi, io credo che questa sia la prima delle tante manifestazioni che Cupello andrà a rappresentare, ad organizzare. Io l'ho sempre considerata come uno degli eventi che dà la spinta e l'avvio a tutte le altre manifestazioni, non solo di Cupello ma del territorio intero. Grazie a tutti.